Allora, lei ha tutto il diritto, come opposizione, di fare la sua battaglia forte in Parlamento per non votare tutte le leggi Berlusconi, per dire questo governo fa schifo, io non lo voglio, ha il diritto di... però c'è una maggioranza in Parlamento, è la maggioranza del PDL. Quando ci saranno le prossime elezioni, se lei riesce a vincere, tanto meglio. L'unica cosa che lei non può fare è delegitimare un governo e un Parlamento democratico, dicendo, no, delegittimare, cioè non riconoscendo che quello è un Parlamento democratico e paragonando un governo democratico al fascismo e alzando i toni della protesta fino alla guerra civile, è folle secondo me. Un Parlamento che fa finta di non vedere che Di Girolamo non aveva i requisiti e solo noi abbiamo votato contro. E mo' che se ne accorge, vota per buttare fuori Di Girolamo e si tiene un certo cosentino con provvedimenti di cattura in carico e io non devo delegittimarlo. Ma quello non è un Parlamento, è un luogo di correre. Ma che è? Lei ha il diritto di criticarlo e può dire che è un Parlamento di farabutti, può dirlo tranquillamente. L'unica cosa che non può dire è delegittimarlo, vuol dire in demorazia, non riconosce l'altro soggetto politico come soggetto attivo e democratico. Nel momento in cui lei demonizza il Parlamento. Ma non è che lo demonizzo, io lo contrasto, lo contrasto prima che sia troppo tardi. Lo contrasto prima, no dico solo questo, io lo contrasto prima che sia troppo tardi. Perché una cosa è vincere le elezioni, ma non è che vincere le elezioni, è davvero come il Marchese del Grillo, gli fa quello che gli pare e piace. Una cosa è vincere le elezioni, una cosa è rispettare la legge. Non è che siccome vinco le elezioni mi faccio la legge come voglio io. Vinco le elezioni e decido che lo use prima in office. Tutte le belle ragazze vanno allo Sport Village con me, che le elezioni sono qui. No, per fortuna c'è una Costituzione, la vota Grund Norm, la Costituzione, che non permette a chi vince di prendersi tutto. Professor Segni, allora, come stanno insieme oggi in Italia la legittimazione che giustamente viene rivendicata dal voto popolare e il rispetto delle regole, che altrettanto giustamente viene invocata? La democrazia è fatta di rispetto delle regole. Lo Stato di diritto, lo Stato liberal democratico, non è la tirannia della maggioranza. Lo Stato liberal democratico è stato inventato per mettere le regole che servono prima di tutto per la maggioranza. Questo è il dato reale. Quindi le due cose si combinano insieme. La maggioranza ha il diritto, il dovere di governare, perché è stata investita dalla maggior parte degli italiani. non ha il diritto di infrangere le norme costituzionali, come secondo me ha fatto proponendo quel decreto l'altro giorno e ottenendo in maniera purtroppo sbagliata dal capo dello Stato l'avallo. Adesso però vorrei dire una cosa che si rivolge ai giornalisti, non a voi direttamente, perché la stampa ha una grande importanza, non dico nell'educare, il compito non è vostro di educare, ma insomma nel trasmettere idee in qualche modo, nel far capire e ragionare. Mi è capitato sotto mano, il libro di oggi non l'avevo visto, non riguarda direttamente nessuno di voi, però insomma, santo Dio, diciamo francamente, si può dire una cosa. Vaffa dei giudici al PDL, magistrati antinapolitano, il TAR ignora il Quirinale e il diritto di voto degli italiani. Ma che c'entra questo con Quirinale? Ma perché il TAR che non applica giustamente, secondo me, ma sarà una questione, offende il Quirinale e offende il PDL? Proprio questo è un modo di instillare l'idea che la giustizia è comunque sempre da una parte e quindi non è più giustizia, questo è corrosivo rispetto all'Italia. Questo è stato vostro direttore, mi dispiace, sarà un bravo giornalista, tirerà coppie, ma questo è un modo di fare giornalismo distruttivo. lo fanno anche tanti altri. Sì, è ben chiaro, però lo fanno allo stesso modo, chi parla di golpe fa lo stesso modo. Cerchiamo di guardare più avanti, dopo le regionali, quando ci saranno queste regionali, se ci saranno ovunque, nelle 13 regioni chiamate a votare. Monore Di Pietro, lei ha parlato spesso di un'alternativa, che si crea un'alternativa a Berlusconi, comunque alle destre, ci sta lavorando, l'ha detto al Congresso, è possibile vedere che gli elettori che non si riconoscono in quella parte pubblica trovano un'opposizione compatta? È un impegno imperativo per l'Italia Valori costruire un'alternativa, perché io voglio sostituire Berlusconi politicamente, non aspettare che lo chiamo il Signore, perché sono un cattolico e vorrei che campasse tanto per sé, ma campasse meno politicamente per gli italiani. E per questa ragione abbiamo deciso di costruire questa alternativa in un'area riformista, di centro-sinistra, che mette insieme libertà e solidarietà, legalità e libertà anche economiche. Ciò opposto, Italia Valori e Partito Democratico, ritengo siano le prime pietre angolari di questa formazione e coalizione nuova. Ci auguriamo che altri partiti ci stanno vicini, ma io stiamo certo che non vado alle prossime elezioni, ne lavorerò questi anni o mesi, fino al 2013 massimo, per, diciamo così, se non per costruire questa alternativa e per rafforzare questa coalizione. Se qualche volta, come capita in questo caso, su alcuni punti specifici non siamo d'accordo, rispetto il PD che fa le barricate su un uomo del suo partito che è diventato Presidente della Repubblica e credo che possa chiedere uguale rispetto al PD, a me, formazione politica, che risponde direttamente agli elettori, che credo che in questo caso il garante si sia girato dall'altra parte. Ultimissima domanda al Professor Segni. Allora, oggi ne aspettiamo il risponso dell'Ufficio elettorale per capire se ammette o non riammette la lista del PDL. Allora, facciamo uno scenario. Nel caso non venga riammessa, che cosa succede? E nel caso venga riammessa, il PD ha già detto, la Bonilla ha già detto praticamente che comunque farebbe ricorso e quindi si ricomincerebbe di nuovo tutto da capo. Per quello noi all'inizio della puntata abbiamo detto c'è un cortocircuito. Facciamo un minimo di scenario. Cosa succede da un punto di vista giuridico e di decisione giudice? Non lo so, perché adesso non ci capisco più nulla. Perché tra l'altro paura questo decreto abbia complicato anche le cose, anche da un punto di vista tecnico, di interpretazioni, controinterpretazioni. Non riesco più a capire nulla. Quindi non azzardo previsioni. Politicamente mi auguro che tutto finisca più presto, che si faccia una reazione. Se ci sarà la lista del PDL è tanto meglio. Oggi Berlusconi ha fatto intendere che sta pensando al rinvio, no? Era titolato sui giornali, al rinvio delle elezioni. Non ho una idea su questo. Gioca le due squadre. Uno delle due, vedi che sta perdendo, e dice, si ricomincia la prossima volta. Sa, senta, adesso stiamo anche drammatizzando cose. Io ero giovane deputato democristiano in Sardegna, quando all'elezione comunale di Alghero non fu ammessa la lista della democrazia cristiana. Le diranno, Alghero certo è piccola, 50.000 abitanti, ma la democrazia cristiana ad Alghero prendeva il 50%. Quindi quella lista si chiamava sindaco, assessore, tutto e qua. Un caso identico a quello romano. Si presero a cazzotti, sino non a mezz'ora prima, ma a mezz'ora dopo. E quindi arrivarono dopo. Lista esclusa. Beh, nessuno di noi se l'ha presa con quello. Noi diciamo al nostro segretario provinciale, ma tu sei un imbecile e te ne devi andare. Perché se non sei in grado di presa con la lista, è colpa tua, non è colpa che quello. Perché tu sei arrivato a mezzogiorno e mezza e ti attacchi al tram. Si fece la lista e la vita continuò. Alghero. Per 5 anni è sempre stata così, fino a oggi. E poi la prossima volta la democrazia cristiana ha preso la lista e pigliò la maggioranza assoluta ancora più di prima. Perché gli altri nel frattempo hanno governato il peggio. E se l'ha dimostrato anche te. Grazie, grazie a tutti voi. Concludiamo con le vignette di Mario Natangelo. Di un microfono e di una telecamera. Allora, abbiamo parlato tanto di Napolitano, del Presidente della Repubblica. Naturalmente qua si fa satira, quindi io posso dire quello che voglio. Tutti in Italia, speriamo che possano dire. Innanzitutto ci chiediamo a Napolitano cos'è rimasto di sinistra. La fama, forse. Poi c'è un'invocazione di Berlusconi che dice basta col pessimismo, non è tutto nero, è color camicia. Poi qua si parla di irregolarità nelle liste. Ci sono stati dei problemi con le firme per il PDL. Un centinaio erano di Napolitano. Poi c'è Berlusconi che invoca la democrazia e dice se ci sei batti un golpe. Abbiamo avuto un decreto e soddisfatto dal decreto il PDL ritira la protesta e la retromarcia su Roma. E infine presentiamo quella che abbiamo oggi sul fatto che si intitola Tutto è concesso e c'è Berlusconi che dice grande uomo napolitano, gli dedicheremo una bella via. Via libera. Grazie.